Io credo che, come ho già detto ieri con molta chiarezza, ho sentito anche il Presidente della Regione Lombardia, che quando finalmente inizieremo, e mi auguro senza alcun pregiudizio, a discutere del piano industriale, del progetto di sviluppo, forse tutti capiranno che questa è una grande opportunità, compreso per il sistema lombardo. Perché oggi, senza Etihad e senza l'alleanza tra Etihad, il sistema lombardo, Linate e Malpensa, non mi sembra che stia dando grandi frutti. O non mi sembra che negli ultimi cinque anni gli passeggeri, con l'attuale situazione di Linate e con lo sviluppo di Malpensa, abbia dato risultati eccezionali. Che vuol dire? Che è solo riguardo ad un piano industriale vero di sviluppo del sistema aeroportuale italiano, e anche di un grande vettore che interviene sul mercato, che forse possono essere rilanciati. Da questo punto di vista studieremo le integrazioni, per quanto di competenza del governo, tra Linate e Malpensa. Alcune decisioni, però, forse le potevano prendere prima gli enti locali. E se non le hanno prese, vuol dire che Linate gli fa comodo così com'è.